Oggi amici di Giallo, un antipasto che vi svolta con camembert. Togliamo la parte superficiale al formaggio. Mettiamo il camembert sulla passasfoglia ed attorno nella carta forno. Soprapponiamo altra passasfoglia, mettiamo dei piccoli gussel intorno ed incidiamo. Arrotoliamo, togliamo la carta forno, mettiamo altri gussel, arrotoliamo ancora, spennelliamo. Uniamo del sesamo a 180 gradi, 40 minuti e wow! Il nostro antipasto filante è prontissimo! Fatelo!